Nello stato attuale della natura decaduta, cioè che vive nel peccato, è impossibile amare Dio senza rinunce e sacrifici. Quindi se vogliamo amare Dio dobbiamo convincerci che nulla si fa senza sofferenza. Gesù dice ai suoi discepoli se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua cruce e mi segua. Rinunciare a se stesso, cioè alle cattive tendenze, all'amore disordinato delle persone e delle cose. Portare la cruce e accettare le privazioni, le umiliazioni, l'impegno personale nelle responsabilità, l'esercizio delle virtù, l'espiazione delle colpe. San Paolo è talmente convinto di quanto detto che dice tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Bellissimo questo passo di San Paolo. Noi pensiamo che il grande San Paolo non avesse bisogno di mortificare il suo carattere, di mortificare le sue tentazioni. Invece ci dice che devo stare attento perché se no può capitare che io predico la salvezza agli altri e io ne rimango schiavo. Il carattere è qualcosa di innato nell'individuo, qualcosa che la natura ci impone. Non cambia mai completamente, ci rimane sempre qualcosa del nostro carattere naturale. Una educazione opportuna e la forza soprannaturale possono correggere i difetti. Alla superficialità e ingostanza del carattere opporre la riflessione e la ponderazione. avere un programma dettagliato di vita con riscontro nell'esame di coscienza e obbedienza al padre spirituale. Sono le norme che ci vengono impartite e quanto cominciamo dopo nell'anno del noviziato di come il giovane si deve comportare per tutta la vita. Fiducia nel padre spirituale, nella direzione spirituale e controllo a quanto si è stabilito di eseguire e questo proprio per l'educazione del carattere. Padre Pio è preoccupato di far penetrare un raggio di luce evangelica anche negli uomini di spettacolo, negli artisti e quindi si interessa anche a questa categoria perché giunga il seme della conversione e dell'amore di Dio. Incontra Campanine e Macario, i due noti attori che arrivano a San Giovanni Rotondo per visitare il santuario e incontrare anche il padre. Il padre Pio come li vede? Oh che faccia che tengono! Un signore che sta lì presente dice padre adesso gli attori hanno deciso di non lavorare più con le gambe ma con la mente e padre Pio ma lavorassero veramente con coscienza perché di disonore se ne prendono tanto se ne prendono e poi scherzando diciamo scende a conversare con questi due attori e dice padre Pio facciano quello che vogliono l'importante è mettere giudizio poi scherzando ancora e salutando le dice continuate a farvi disonore tanto avete sempre fatto così. Campiate subito altrimenti la prossima volta che venite vi metto alla porta.